Salve a tutti amici arti, siamo venuti in questo nuovo video. Oggi, come tanti utenti, penso che abbiamo cercato di scaricare GTA V gratis, però dopo aver attesto un sacco di tempo sono nati poi una serie di problemi. O meglio, è nato un problema, penso che vale per tutti gli utenti, perché se provate a cercare in rete il problema risulta uguale per tutti. Il problema è quello. Praticamente il server di Epix si è intasato. A quanto pare per adesso una vera e propria soluzione al problema non c'è. La Epix ha twittato su Twitter che sta cercando di rilasciare un aggiornamento per risolvere il problema. Quindi adesso l'unica cosa che ci resta è quella di aspettare. Spero che questo video vi abbia aiutato a capire qual è l'attuale situazione delle cose. Appena il problema sarà risolto farò anche un gameplay e lo posterò nel canale. Lasciate like, commentate e condividete il video. Al prossimo video. Al prossimo video. Al prossimo video.